che bella giornata ciao scogliattolo qualcosa non va? aiutatemi per favore il mio dente mi fa male non riesco a rompere le ghiante allora ti porteremo all'ospedale no non in ospedale ho paura dei dottori perché dovresti avere paura cambieranno il tuo olio puliranno il carburatore è una cosa bella cosa? ho un'idea sistemeremo tutto senza medici per davvero? sicuro conosco un rimedio eccellente ma una carota? rosicchiala dai proviamo a sciacquare resisti apri la bocca penso che faccia ancora più male adesso basta dobbiamo portarlo in ospedale no 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 per favore tranquillo scogliattolo ci pensa il medico jed ma jed non abbiamo bisogno di un ospedale conosco un altro modo che funzionerà sicuramente abbiamo bisogno di legare una pietra al dente cattivo e gettarlo da una scogliera no non voglio andare giù per una scogliera tranquillo amico l'ho fatto mille volte d'accordo wow sembra perfetto e ora serve il tocco finale così hai anche un tetto ciao ragazzi ehi stai bene? cos'è successo? ha bisogno di una casa forte e sicura piccolo verme da ora in poi vivrà in una roccia puoi entrare smettila di spaventarci così non volevo spaventare come sta il vostro amico? l'hanno portato all'ospedale non voglio neanche pensare a quello che stanno facendo e tu jed hai paura dei dottori? io certo che no ciao scogliattolo com'è andata allora? non mi ha fatto per niente paura davvero? e chi è che si stava nascondendo sotto il tavolo del dottore? avevo solo paura che mi avrebbe fatto male ma è finita prima che me ne accorgessi qui ma io voglio vivere dentro una mela non se ne parla neanche dai fai un buco in quella roccia va bene jed facciamolo vivere in una mela dopo tutto si ma il corvo? chiediamo all'albero saggio albero saggio abbiamo bisogno di aiuto qui il verme sarà al sicuro finalmente un po' di compagnia vattene via ciao in ogni episodio c'è una piccola chiave inglese nascosta da qualche parte guardate attentamente ciao Ciao!